I consigli li prendiamo dal taccuino di Tony Ray Jones, un fotografo straordinario che è scomparso 50 anni fa. Gli elementi fondamentali sono essenzialmente tre. Evita foto noiose, realizza immagini semplici e la terza è fai poche fotografie. Questi sono i tre punti fondamentali al di fuori dei quali non bisognerebbe mai andare. Poi ci sono dei consigli ancora un pochino più tecnici che sono per esempio quello di rimanere consapevoli di ciò che si sta facendo, vale a dire fare in modo che il soggetto della fotografia sia l'elemento fondamentale e principale, che tutto ciò che gli sta attorno sia coerente con il soggetto. Evitare il mosso, andare molto vicino al soggetto, specialmente se il soggetto è una persona. Questi sono gli elementi fondamentali. Quindi non essere banale, essere sempre molto attento e molto preciso alla composizione. Un'altra cosa fondamentale è fare in modo che ciò che non deve essere dentro la fotografia non compaia. In questo modo si riesce a mettere insieme un'immagine che riesce veramente a trasmettere il vostro pensiero a chi osserva.